Pare d'essere nella padana. Il silenzio delle stelle attraverso Maria Teresa G. a cura di VB, entità anonima. Dove mi trovo? Cosa è tutta sta nebbia? Pare d'essere nella padana. Che gelo, che gelo! Pausa di un paio di minuti. Certamente sto andando da qualche parte, che mica so uscita di testa, meno male. Qua la nebbia è meno fitta, ma cosa so tutti quegli alberi neri e scheletrici? Oh, me ne vado, sorvolo, sto posto orrendo. Sono o non sono capace di volare? E allora che aspetto? Un'altra pausa. A quella voce subentra un fruscio monocorde fastidiosissimo, come quello della tv quando c'è un'interruzione accidentale del programma. Poi il fruscio è sostituito da piccole frasi disarticolate, come brandelli di discorsi. Giuro, non l'ho ancora tentato, ma sono sicura che posso volare. Non dire le solite scemate, Nicky. Steffi ha detto tutto il contrario. Sei un gallinaccio che non guarda la più brutta delle galline. No, preferisco un drink con la solita spruzzatina che sai. Fammelo da schianto, Enzo, Dori, mi fai compagnia nello sballo? Che dici, Enzo? Credi di infinocchiare una stronza? Alex la dà a cinque eppure a quattro, se ci stai. Mi porti a casa? Dai, Andrei, non fare il prezioso. Ma che poliziotti e palloncini! A me non mi ha mai fermato nessuno. Su, Silvia, non ci morirai qua. Dove la portate? No, non si può lasciarla sulla panchina. Almeno lasciatela davanti all'ospedale. Improvvisamente si ode un'esplosione di singhiozzi che interrompe ogni parlare. Poi, a poco a poco, quel pianto si affievolisce e la voce ritorna, ma è una voce diversissima, pacata, corretta, sensata, nel contenuto discorsivo. Prima ondeggiavo qua e là, come una foglia al vento, dentro un oceano di nebbia fittissima, e mi pareva di non avere più i piedi e le gambe, anzi, di non avere più nulla e di non vedere più nulla. Adesso mi sento soltanto un pensiero, strano, vero, un corpo solido, trasformato in un sentire astratto, senza alcuna forma e senza alcuna sostanza. Non sono fuori di testa, come diceva mamma, per quella robaccia che compravo in discoteca. A me allora la fuori di testa pareva lei, che, venuta dalla campagna a sedici anni per andare a servizio, a cinquanta passati, sgobbava ancora otto-nove ore al giorno sopra i pavimenti, gli ottoni, i tavoli da stiro, e a casa trovava ancora la voglia di scrivere pagine su pagine, che aveva intitolato «Il romanzo della mia vita». In quel grosso quaderno riversava i suoi sogni quelli dei fotoromanzi, che divorava al punto di avermi dato il nome di Floriana, una delle sue eroine preferite. Le scriveva, forse sperando, in un editore, e io mi impasticcavo e mi bucavo per evadere dal grigiore di una vita e di un mondo che ritenevo senza prospettive. L'illusione di poter volare è molto diffusa fra noi. Per questo mi sono lanciata dal balcone. Se la roba è mal tagliata da uno spacciatore criminale, o si muore con la siringa ancora in vena, o ci si spiaccica sul marciapiede, come un gatto sull'autostrada. Chissà che effetto farà alla discoteca la notizia della mia morte. Qualcuno dirà «Ma chi era quella rossa mesciata con gli short dipinti sulle chiappe?» Qualcuno dirà «Oh, poveretta, quanto mi dispiace!» E qualche altro se l'è voluta. Era così presuntuosa e fanatica. E dopo pochi giorni tutti mi dimenticheranno. Mamma no! Fra un servizio e l'altro lei verrà a portarmi tanti fiori, i più belli, e certamente mi dedicherà pagine e pagine del suo romanzo, dipingendomi come la figlia perfetta che sognava di avere. Amici miei, è meglio la sua vita, benché diversissima, e ora segnata dal più grande dei dolori, se ancora le lascia la capacità di credere, di sognare, di sperare. La sua è davvero un romanzo, la nostra una tragedia, pensateci. Parlo a quelli che già si drogano e a quelli che sono tentati di provarci per curiosità o per sfida, sicuri di non ricascarci una seconda volta. Vi prego, cercate un aiuto, un sostegno psicologico e spirituale. Cercate di crearvi non l'illusione di evadere, ma la certezza della irrinunciabilità della vita, qualsiasi essa sia. Grazie. 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 Grazie.